Niente panico, in Molise non c'è al momento nessuna ragione di allarme. È una regione in emergenza, lo stato dichiarato dal Governo nazionale per sei mesi da gennaio, ma non in allerta per l'epidemia coronavirus. Lo ribadisce più volte il governatore Donato Toma nel punto stampa convocato a Palazzo Vitale insieme al commissario dell'Asrem Scafarto e al direttore del quarto dipartimento che ha competenza sulla protezione civile, Brasiello. Dopo il confronto col Governo nazionale in arrivo una nuova ordinanza, spiega Toma, e alcuni contenuti relativi alla prevenzione sanitaria, soprattutto per esempio l'obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio per chi rientri da zone in cui ci sia stato anche un solo caso accertato di coronavirus, erano già previsti nell'ordinanza che il Presidente del Molise ha emanato lunedì. Fare una nuova ordinanza non appena verrà validata a livello della conferenza dei Presidenti quella tipo che abbiamo concordato col Governo, però vi anticipo che la nuova ordinanza in realtà non è diversa dall'ordinanza che ho fatto io. E' più specifico, agli studenti diciamo di non preoccuparsi, non le fate, le gite scolastiche fino al 15 di marzo sono sospese e poi vedremo, avremo modo di recuperare. Le scuole in Molise sono aperte, quindi per ora problemi non ne abbiamo. Lavarsi sempre le mani, acqua e sapone in primis. Se si starnutisce non starnutite in faccia al compagno di banco, ma come dicevano le nostre non sarnutite a gomito nel gomito e sono questioni anche di semplice educazione. Cerchiamo di evitare luoghi estremamente affollati. Rientrato poi un incidente diplomatico col Ministro dell'Interno dell'arrivo degli allievi agenti da Piacenza, rivela Toma, la Regione non era stata affatto informata. Ci siamo chiariti non solo col Ministro dell'Interno, in realtà devo dire che la collaborazione che abbiamo instaurato con il questore, con i medici della polizia è stata talmente pregnante, talmente stretta, talmente collaborativa che abbiamo superato molto bene anche questo piccolo difetto di informativa. Tutti se lo augurano, il Molise magari non avrà alcun caso di coronavirus oppure, come sembra in realtà probabile ce ne saranno, ma senza conseguenze. Passata l'emergenza, questo però è certo, resteranno i gravissimi danni all'economia anche di questa Regione. Sul punto, assicura Toma, è stato già sollecitato il Governo nazionale. Abbiamo chiesto che il Governo cominci a preoccuparsi degli interventi di natura economica perché i danni sono enormi, ingenti. Abbiamo danni al turismo, abbiamo danni all'economia italiana, abbiamo danni ai rapporti con gli altri paesi, ma i danni economici veramente sono ingenti. Stiamo per ora sollecitando il Governo a trovare fondi, prima di tutto per le regioni che hanno subito più direttamente il problema, ma anche per noi molisani. Perché? Perché la limitazione degli spostamenti danneggia gravemente il nostro turismo. Grazie. Grazie.